Girava in moto con una pistola pronta a sparare, successo a Biceglie dove i carabinieri hanno arrestato un 22enne e denunciato un 14enne per detenzione illegale di arma da sparo. La scorsa notte una pattuglia in servizio ha visto passare un motorino con la targa coperta dal piede di uno dei due occupanti e ha intimato l'alt. Il conducente invece di fermarsi ha aumentato la velocità ed è scappato. Ne è nato un inseguimento per le strade della città durante il quale i carabinieri hanno visto la persona alla guida della moto disfarsi di un grosso involucro. Dopo aver raggiunto e fermato i due ragazzi, il 22enne e il 14enne, i militari hanno recuperato il pacco gettato dai due. All'interno era custodita una pistola semi-automatica clandestina, modello Beretta, contenente cinque colpi nel caricatore che è stata sequestrata. Per il maggioreenne alla guida del ciclomotore è scattato l'arresto per detenzione porto illegale di arma da sparo e il ragazzo è stato trasferito in carcere, mentre il 14enne è stato denunciato in stato di libertà.